Giovedì 9 agosto, buongiorno Ben, ritrovate l'appuntamento con la rassegna stampa di TRG, molte le notizie oggi in primo piano, si parla infatti di quei 30 milioni di euro che dovevano andare per la riqualificazione delle periferie urbane di Perugia e Terni ma che il governo fa slittare come finanziamento in avanti per due anni, ovviamente ci sono le proteste della politica in particolare, di quella politica che oggi è all'opposizione, un ubifragio ieri pomeriggio ha colpito l'Umbria, in particolare la zona Perugia-Corciano con danni ed allagamenti che sono stati importanti ed evidenti e poi torniamo a Terni dove prosegue l'indagine sulla mamma che ha abbandonato il neonato in un parcheggio dell'Eurospin, il neonato ovviamente è morto da sfissia di lì a poche ore dall'abbandono, la mamma si difende, dice che non c'era in lei l'intenzione di ucciderlo, non è della stessa opinione, vedremo la procura. Questo in primo piano ma vedremo che avremo anche oggi un ospite, intanto le prime pagine dei quotidiani, il Corriere dell'Umbria che titola proprio periferia a rischio 30 milioni, l'emendamento al mille proroghe, rinvia di due anni i progetti di riqualificazione per Perugia e Terni, il nubifragio che ha lagato mezza Umbria e poi i richiami dai singoli territori, Perugia 6 ore di attesa al pronto soccorso e ancora a Terni neonato morto, il GIP dice la madre è insensibile, Foligno poche fototrappole per i furbetti dei rifiuti, Foligno continua a combattere questa sua battaglia contro chi abbandona i rifiuti e poi Pietralunga la curiosità, un pomodoro record da oltre un chilo. Per lo sport Grifo spunta Schenetti e poi per la pagina in primo piano del dorso regionale della nazione, l'apertura è dedicata proprio a Terni, lo voleva uccidere, questo è quello che dice il giudice riferito alla mamma che ha abbandonato il proprio figlio, la mamma non è indigente, dice il giudice e non ha fatto nulla per farlo ritrovare, ricordiamo il feto è stato abbandonato in un sacchetto di plastica in un parcheggio del supermercato. Pistola in pugno, rapinano una sala bingo, siamo a Perugia, un commando a Ponte San Giovanni, in pochio tempo è riuscita a portare via un bel bottino e poi maltempo, bomba d'acqua allagamenti in città, mentre anche la nazione ovviamente titola sul rinvio di quei 30 milioni che servivano per riqualificare le aree urbane di Perugia e Terni, congelato il piano periferie a rischio progetti per 30 milioni. Da Orvieto nella libreria vicino al Duomo viene ritrovata un'antica poesia erotica e poi da Castiglione del Lago c'è il sindaco che scrive alle poste ufficio chiuso da mesi il disagio per i cittadini. Il messaggero sceglie invece un'altra apertura scuola alla carica dei superpresidi, la dirigente dell'ufficio scolastico regionale Iunti ha firmato il decreto per le reggenze, 15 conferme, 6 cambi di sede, 11 new entry, così 32 istituti trovano un capo. Acqua e fuoco il titolo emblematico del messaggero per il nubifragio che ieri ha colpito Perugia, perché fuoco? Perché un fulmine ha anche fatto ardere alcuni alberi, alcuni tra l'altro di carattere secolare che si trovavano nella prima periferia. Assisi dietro la finta rapina, i soldi buttati al gioco, è una storia che vi racconteremo nelle cronache, un portiere d'albergo che fa finta di essere stato rapinato, in realtà aveva bisogno di soldi per spenderli nelle macchinette. Perugia e Terni perdono i soldi per le periferie, anche il messaggero titola su questo caos mille proroghe in bilico 29 milioni di euro. Ancora supercontrolli, materiali pericolosi e velocità stangati, tir camion e bus dopo quello che è accaduto ovviamente a Bologna e ancora Perugia assalto in una sala giochi, pistola e auto bruciata per coprirsi la fuga. Neonato morto, siamo a Terni, non volevo ucciderlo, questo dice la mamma, il PM non crede a questa versione. E poi si torna a parlare del caso di Antonella Ducchini, il PM che è stato trasferito ad Ancona, indagata dalla procura di Firenze, sette telefonate sospette, ma lei si difende. L'home page del nostro sito internet www.trgmedia.it invece ci porta a Gualdo Tadino, ci porta a parlare di Tagina, l'azienda storica, azienda di ceramiche che pochi mesi fa è stata rilevata da un nuovo gruppo industriale di matrice laziale. Ebbene i sindacati proprio in queste ore hanno scritto al prefetto, chiedono un incontro, perché qual è la questione? Bisogna ottenere a tutti i costi, verrebbe da dire sì, la cassa integrazione che consenta a questa nuova compagine societaria di poter mano a mano riassorbire tutto il personale, parliamo di circa 150 lavoratori, attualmente solo una parte sono rientrati attivamente al lavoro, ma questa cassa integrazione per il momento non arriva. E allora, proprio per le ultime novità, noi oggi abbiamo ospite in studio Euro Angeli della Filcem CGL. Euro, buongiorno, grazie per essere qui a quest'ora. Quali sono le novità, che novità abbiamo su Tagina, se ci sono novità? Purtroppo le novità che abbiamo sono nulle, perché non abbiamo un incontro con il Ministero ed è il Ministero che oggi ci dovrebbe dare la strada maestra per mantenere tutti i lavoratori in forza all'interno dell'azienda. Stiamo facendo da soli, con sacrificio estremo dei lavoratori rinunciando a una parte dello stipendio, mantenendo il loro posto di lavoro per il mese di agosto, in attesa di una risposta spero positiva del Governo, con l'assenza giustificata e non retribuita da parte dell'azienda. Unico strumento che permette a un'azienda inconcordato di poter mantenere i lavoratori in forza. Abbiamo cominciato questa lunga strada dal 7 giugno, dove ufficialmente con un esame congiunto in Regione abbiamo chiesto l'utilizzo di uno strumento straordinario. È straordinario, quindi il Governo deve capire che uno strumento straordinario ha necessità di decreti enorme e straordinarie. Fa una valutazione positiva negativa dell'azienda, ce lo dice, ci dice qual è la valutazione. Se è positiva, può adempiere con risorse che vengono dalla Regione messe a disposizione ad un decreto che può dare una cassa interazione temporanea, in deroga, straordinaria, che possa mantenere i lavoratori all'interno dell'azienda, mentre l'azienda riattiva il secondo forno, la seconda linea e fa gli investimenti necessari a, e quindi anche la formazione, a mantenere tutto il personale oggi in forza. Ricordo che ad oggi sono ancora 152 persone, non è un'aziendina piccolina che non è strategica o è di poco conto. Ecco, per far ben capire ai nostri telespettatori, magari non tutti conoscono la questione di taggina, in questo caso sostanzialmente i soldi per la cassa integrazione straordinaria ci sono, perché li mette la Regione, serve un atto politico. Perfetto, la Regione ha un pacchetto dedicato alle aree di crisi che può mettere a disposizione, lo ha fatto per la taggina ma non lo ha fatto a caso, lo ha fatto dopo una valutazione, una valutazione di una nuova società che ha presentato un piano industriale, tra l'altro validato anche dal giudice che porta avanti il concordato. L'ha validato in otto giorni, cosa più strana Il giudice ha ritenuto credibile il progetto, no? Certo, certo, è un progetto molto credibile, è un progetto che nasce da Roma con altre aziende che sono state già acquisite, che già stanno lavorando, che già stanno dando lavoro alla taggina, ne potrebbero dare ancora di più, ma nell'incertezza di ammortizzatori sociali, l'azienda deve fare degli investimenti ma li fa nel momento in cui sa come coprire i lavoratori, se no ha degli altri costi. Ovvio, che cosa vi state organizzando per fare? Allora, l'altro ieri abbiamo chiesto un incontro al prefetto che è rappresentante del governo sul territorio e deve tutelare la tenuta sociale del territorio e quindi già il prefetto ha sollecitato con sua lettera la settimana scorsa il governo a prendere una decisione. Ieri abbiamo fatto un'altra importante richiesta di incontro, spero che sia partecipata da tutti i parlamentari eletti il 4 marzo, opposizione e maggioranza, perché quando si parla di lavoro opposizione e maggioranza si devono mettere insieme e trovare la soluzione. trovare la soluzione per i lavoratori. Lunedì pomeriggio alle ore 15 presso la sala consigliare del comune di Gualdo Tadino abbiamo invitato tutti i senatori parlamentari eletti, la presidente della regione, l'assessore regionale, i consiglieri regionali della fascia appenninica, tutti i sindaci della fascia appenninica, proprio per fargli capire qual è la situazione, fargli respirare qual è la situazione di tutti i lavoratori, non magari solo della persona che conoscono individualmente, ma di rendersi conto che le persone in carne ed ossa sono tante, le famiglie altre tante e se questa azienda non riprende al più presto a lavorare il problema non è solo la tagina, ma le 150 persone su questo territorio fanno la spesa, vanno al bar, comprano una macchina, comprano una casa e quindi a caduta sarà un'ennesima tegola che aggraverà ancora di più la situazione dell'Alta Umbria, zona molto molto più in crisi di altre zone d'Italia. Ecco, che tempi ci sono? Cioè voi avete, siete riusciti per il momento a tamponare la situazione fino a quando? Ma i tempi sono scaduti, sono scaduti la settimana scorsa quando è finita la cassa interazione ordinaria. Noi dal 7 giugno abbiamo fatto un esame congiunto in regione e inviato al Ministero dello Sviluppo Economico, primo incontro fatto, ok, il Ministero del Lavoro che doveva valutare l'esame congiunto ha tardato la sua risposta fino al 10, 11, 12 di luglio dove non ci convoca e quindi lì abbiamo incominciato a fare le pressioni al governo, due, tre, quattro settimane, incontri tecnici e ancora nessuna risposta. Io, per carità, i problemi in Italia sono tanti, ma il primo di tutti sarà il lavoro. Ecco, il primo settembre che cosa succede? Voi siete riusciti fino al 30 agosto tra ferie e permessi non retribuiti a tenere tutti i lavoratori in taggina. Il primo settembre? Il primo settembre sarà altrettanto difficile trovare altre soluzioni, perché questa è una soluzione a costo economico tutto a carico dei dipendenti, quindi i dipendenti non prendendo la retribuzione, perché di ferie ne hanno pochissime, perché già le hanno consumate precedentemente e in fase di cassa integrazione non si maturano le ferie, ne hanno pochissime e quindi finito questo periodo non lo so che cosa riusciamo a contrattare con l'azienda, ma l'azienda essendo inconcordata non è che ci può anticipare retribuzioni o altro, l'azienda potrebbe fare solo un passo estremo che noi non permetteremo e per questo anche se siamo ridosso un'apertura di procedura di mobilità che poteva fare il 3 agosto, non gliel'abbiamo permesso trovando una soluzione alternativa. Però, insomma, i tempi sono stretti. Le ferie quest'anno non si fanno, cari parlamentari e senatori quest'anno lavorate e portate a casa un risultato entro la fine di agosto. Bene, questo è l'appello a quale ci uniamo anche noi, insomma, perché ci sembra che l'argomento sia più che importante, grazie ad Euroangeli per essere stato con noi, seppur in questo breve spazio torneremo a parlare di Taggina, ma noi ora proseguiamo con la nostra rassegna stampa andando all'esame dei singoli quotidiani. Partiamo dal Corriere dell'Umbria, Corriere dell'Umbria che decide nelle pagine regionali di parlare di politica. Le mille anime PD, ecco chi sta con chi. Verini si è reso disponibile per la segreteria regionale, Guasticchi si è controcandidato, altri nomi salteranno fuori, la corsa è appena iniziata tra accordi e sgambetti, insomma la resa dei conti all'interno del Partito Democratico all'indomani della sconfitta elettorale. E poi il Corriere dell'Umbria parla di maltempo, il maltempo mette KO mezza Umbria, paura per due canoisti al Trasimeno, stazione allagata a Perugia, cadono alberi a Terni e nello Spoletino straripano i fiumi. In particolare in zona Corciano sono stati anche evacuati dei locali perché la zona era altamente critica. Pesci al mercurio made in Umbria, lo rivela il direttore dell'ARPA Ganapini che chiede analisi sulla vegetazione e la popolazione lungo Tevere e Paglia. Andiamo alle pagine regionali della Nazione che in particolare nell'approfondimento parla di questi 16 milioni di euro, sono 30 in realtà se consideriamo anche Terni che dovevano essere spesi, messi a disposizione per la riqualificazione della periferia urbana di Perugia ma che attualmente sono stati rinviati. Il governo taglia le risorse per Fontiveggia, erano appunto 16 milioni di euro ma ricordiamo che con Terni diventano 30. Gesto crudele raccolto inverosimile, far trovare il bambino era possibile. Siamo a Terni, la mamma che ha abbandonato il proprio figlioletto appena nato. secondo il GIP di Terni non c'è nessun dubbio sull'intento omicida, la mamma seppur non lo voleva poteva benissimo trovare un'altra soluzione piuttosto che abbandonarlo in quelle condizioni, un'altra soluzione che avrebbe consentito al bimbo di poter vivere. Sotto stretta sorveglianza intanto la signora è tenuta in isolamento. Andiamo a parlare del fatto di cronaca oggi più importante della giornata. Sala bingo, siamo a Ponte San Giovanni assaltata dal commando, clienti minacciati con le pistole. Erano passate da poco le due di notte quando quattro uomini a volto coperto, tutti vestiti allo stesso modo sono piombati in un locale di Ponte San Giovanni. Sembrava un vero e proprio commando, una banda organizzata con ruoli ben definiti. Una volta dentro hanno privato dei telefoni cellulari tutti presenti, ovvero sei clienti e alcuni dipendenti. Due malviventi erano armati di pistola, hanno immobilizzato e tenuto fermo sotto minaccia delle pistole un dipendente, hanno cercato la cassaforte dove hanno potuto prendere ciò che c'era all'interno. Poi quattro, non è chiaro se italiani o stranieri, sono scappati via a bordo di un'Audi scura ritrovata poco dopo carbonizzata. Sono stati gli stessi a darla alle fiamme. E poi maltempo in città, nubifragio allagata la stazione e sonda il Genna. E ancora il caso del PM Duchini che è stato trasferito ad Ancona. Parlano i legali che difendono la correttezza dell'operato del magistrato. Non c'è stato alcun abuso di ufficio. Andiamo al messaggero, le sue pagine di interesse regionale. In particolare si parla di scuola perché ci sono state le nomine dei dirigenti scolastici. La reggenza dell'ITAS va a Improta. Leggiamo qualche nome. La nomina per il Giordano Bruno è andata al capo del Capitini. Coccia confermata il Galilei. Ma ci sono per esempio anche Giuseppe Materia che è stato confermato alla Cavour Marconi Pascal con la reggenza del Casimiri di Gualdo Tadino. Questo il primo piano. Ma si parla anche del nubifragio che ieri ha colpito il Perugino. ha allagato la stazione di Sagi ieri in zona Fontiveggie. Pian di Massiano ha visto evacuata addirittura una palestra. E poi anche il messaggero riporta di questa rapina a Ponte San Giovanni da film in quattro con la pistola. Poi danno fuoco all'auto per coprirsi la fuga. Materiali pericolosi e velocità. Stangati camion, tir ed autobus. Dopo quello che è accaduto a Bologna supercontrolli della stradale sulle strade. Caso Duchini, sette telefonate sospette nel mirino della procura di Firenze. Ma la difesa dice mai emerso fosse consapevole della fuga di notizia. Queste le pagine di interesse regionale. Andiamo nel dettaglio delle pagine locali ripartendo dal Corriere dell'Umbria che in particolare ci parla di Perugia. Luci ed ombre nella prima fase della raccolta differenziata in centro. Rimossi 1.300 cassonetti. La rivoluzione dell'immondizia ha coinvolto 42.000 abitanti. E siamo soltanto al rodaggio. Si parla di sanità. Sei ore di attesa per un codice verde. finisce alle 2 di notte l'odissea di un paziente che si era presentato al posto di soccorso alle ore 20. Intanto in calo i morti per droga nell'ultimo anno anche se l'Umbria continua ad avere una maglia nera per le overdose. I giovani pellegrini della diocesi di Perugia sono arrivati a Castel Sant'Elia. Stanno viaggiando verso Roma. E poi a Castel Rigone finalmente ha riaperto l'ufficio postale. Andiamo ad Assisi. Scariche elettriche per i piccioni. Schiaffo al cantico delle creature. I dissuasori sono comparsi sull'antica fonte Oliviera. Si fingono per ai e portano via pure le fedi. Tre uomini si sono introdotti nella casa di un'anziana signora. Ancora andiamo a parlare del territorio dell'Alto Tevere. Sulla Pecchiese restano le buche promesse sì, cantieri ancora no. E poi lavori in galleria. Guast e caos va in tilt l'impianto frenante di un camion con immancabili disagi per gli automobilisti che erano in galleria con lui. Si rianima il centro storico. Siamo sempre a città di Castello con piazza sotto le stelle e tanti altri appuntamenti. Torna a vivere il cuore pulsante della città. Andiamo ad Umberti. del servizio Mensa cambia volto. Confermate le vecchie tariffe. Anticipato il giorno di inizio di erogazione dei pasti, semplificate le modalità di pagamento. Guardate questo pomodoro. Pesa 1,334 kg. È stato coltivato a Cai Civitella. Siamo nel territorio di Pietralunga. Andiamo ancora ad Umbertide. Risale al secolo scorso il regolamento igienico-sanitario che non va. Il Movimento 5 Stelle chiede modifiche. E ancora Umberti del centro storico si trasforma. Diventa una cantina a cielo aperto. Domani a partire dalle ore 20 con degustazioni di vini. A Gubbio troppi insetti nelle frazioni. È mancata la disinfestazione. Oggi a Sant'Agostino i funerali di Mauro Rampini alle ore 15. Piazza San Giovanni torna a vivere grazie ai volontari. E poi al Canile nuove recinzioni grazie alla raccolta fondi promossa dalla Lotteria Quattro Zampe dei Sant'Antoniari. A Gualdo Tadino atti vandalici. C'è una banda di giovani. Si sono accaniti anche contro i giochi dei giardini pubblici. Sono stati ripresi dalla videosorveglianza con il Festival di San Biagio. La musica racconta la storia presentato ieri il Festival tra Gualdo Tadino e Nocera Umbra che proporrà concerti di musica classica dal 20 al 27 agosto. E poi la vicenda taggina. La regione si schiera a fianco dei lavoratori. Parla l'assessore Paparelli. Non è accettabile la mancata applicazione degli strumenti nazionali dotati di risorse finanziarie. Andiamo a Foligno. Rifiuti il blef delle fototrappole. La città è invasa da sacchetti selvaggi. Ma le apparecchiature attive per beccare i trasgressori sono solo due. Galloni si dimette. Siamo alla polizia municipale. C'è Baffa in pole position. La notizia era nell'aria. Lascia il comando dopo appena tre mesi. Caccia al sostituto. Ancora dal territorio di Foligno. Ecco come muoversi a piedi in tempi brevi tra le vie della città. La mappa pedonale per la gioia di residenti e visitatori. E poi le frazioni di montagna chiedono port parcheggi. Dai timori per la fuga di turisti al bisogno di posti auto. A Spoleto il ponte delle torri riapre ma nel 2019. E poi a Terni fredda e insensibile. Secondo il GIP questa è Giorgia, la mamma che ha abbandonato il proprio bambino in un parcheggio del supermercato. Andiamo alla Nazione. Le sue pagine di interesse locale. Siamo a Castiglione del Lago. Parla il sindaco Batino che scrive le poste e dice troppi disagi per l'ufficio postale chiuso. E poi ad Assisi fa discutere la pubblicità francescana di Oliviero Toscani. Il famoso fotografo che ha utilizzato il cantico delle creature, insomma delle citazioni riferite a San Francesco. E poi interventi alla struttura di Ferratelle. Siamo a Gubbio. Ecco le aree dove far correre i cani. Lavori finanziati con i fondi della lotteria a quattro zampe. Gubbio è il lutto per la morte di Rampini, imprenditore sportivo di successo. Oggi funerali a Gualdo Tadino, Tagina. I sindacati scrivono al prefetto, servono gli ammortizzatori sociali. Mentre nel fine settimana si attende la mostra mercato Capezza. A Città di Castello la rivoluzione dell'autonomia. Sono disabili ma vivono da soli. Inaugurato il progetto che permette di sperimentare loro l'indipendenza. Umberti del servizio mensa inizierà con l'anno scolastico. E poi a Città di Castello l'iniziativa Notte di San Lorenzo in centro con sfilate di moda. Foligno, chiatti a settembre di nuovo libero. In scadenza i tre anni di protezione. Ora è ospitato in una Rems. L'Avvocato Picuti dice non è redimibile. Ponte delle Torri, la riapertura nel 2019. Siamo a Spoleto. E poi da Terni, ammortizzatori sociali ai licenziati. Mobilità prorogata di un anno. L'accordo nell'ambito dell'area di crisi complessa Terni-Narni. Andiamo al Messaggero, le sue pagine locali. Da Perugia ha congelati i fondi per Fonti Vegge. Lo abbiamo visto, parliamo di 16 milioni di investimenti che dunque sono a rischio. E poi la storia che arriva da Santa Maria degli Angeli. Rapina inventata per il vizio del gioco. Un portiere d'albergo ha simulato l'assalto di rapinatori per un ammanco di soldi da giustificare. In realtà li avrebbe presi per poterli andare a spendere nel gioco. Le ferite alla testa, il ricovero in ospedale e poi i primi buchi nella ricostruzione dell'aggressore lo hanno scoperto, lo hanno fatto scoprire. A Bastia ruba generi alimentari due volte, preso dai carabinieri. Gubbio per le pensioni degli emigrati, ricorso dell'Agenzia delle Entrate. A Città di Castello, fitofarmaci vicino al Tevere, sono stati chiesti controlli. E poi andiamo nel territorio di Foligno, montagna di rifiuti vicino al Cammino Francescano, inutili le proteste dei residenti. A Nocera Umbra il 26 agosto torna il Trofeo Città delle Acque. A Montefalco, enologica, scalda e motori, buon vino e prodotti tipici e cultura. A Spoleto il Ponte delle Torri si riapre nel 2019, dunque non prima. A Terni, neonato lasciato morire, parla la mamma, non volevo finisse così. La madre accusata di omicidio incontra il suo avvocato in carcere. Questo per le pagine di Cronaca, ci fermiamo solo per qualche momento, parleremo di sport e parleremo di meteo.